Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Abbiamo con noi un politico, un testimone di due epoche, la prima e la seconda Repubblica, un figlio d'arte, Bobo Craxi. Eccomi, buonasera. Senti, posso iniziare con una domanda, un argomento non rituale. C'è una canzone di un cantante famoso che in qualche modo ti riguarda, ed è Amma Met di Umberto Tozzi. Cosa ti dà a sentirla? Allora no, Umberto è un mio amico. Io ho diversi amici, diciamo, tra l'altro amicizie maturate in ambiti differenti, in ambiti diversi. Cioè, mentre con Lucio e Francesco fu un'amicizia, diciamo, musicale, parlo di De Gregorio e di Dalla, che ho ancora, insomma, sono molto amico. Umberto Tozzi, mia moglie era amico di sua moglie, amica di sua moglie, quindi Umberto l'ho conosciuto vent'anni fa, non per ragioni musicali, diciamo così, e siamo molto amici. Tra l'altro io sono reduce dal concerto di Umberto che ha fatto con Raff l'altro ieri sera all'auditorium. E quindi ha frequentato la mia casa, lui in Tunisia, lui è venuto diverse volte e un paio di volte è venuto per suonare. La prima venne a Tabarca, Tabarca tra l'altro ha molto a che vedere con il luogo da dove tu mi fai le domande, cioè Genova. Perché Tabarca era di proprietà di una famiglia genovese, ed erano i pescatori di corallo. Il porto è un porto genovese, Tabarca. E a Tabarca un giro di francesi teneva una specie di festival jazz dove fu invitato anche Umberto. Tra l'altro in quell'occasione io suonai, ma questo è, suonai con lui, Yesterday è un pezzo suo. Umberto si è affascinato dalla Tunisia, poi venne a suonare Adam Amet, e quella sera Adam Amet, quando fece il concerto, sto parlando credo di 3-4 anni fa, Umberto amava molto quando stava in casa a dipingere, e quella scrisse un testo, e il giorno dopo me lo fece vedere, e poi lo pubblicò. Si chiama Amamet, in realtà è un omaggio, insomma, lui è un contautore, quindi lui parlava di ragazzi, diciamo, era il periodo anche dell'immigrazione, quindi era il periodo di questa speranza che l'Occidente dava a questi giovani africani, sostanzialmente in Nord Africa. Umberto è un uomo sensibile, è un grande musicista, secondo me è un grande pop star, nel senso che lui fa musica pop, non a tutti piace, e scrisse questa canzone, che è anche un po' un omaggio alla nostra amicizia, insomma lui non ha mai nascosto il fatto che Amamet fu ispirato dalla frequentazione con me e la mia famiglia, e neanche mio padre, perché mio padre non c'era più, quando Umberto ha frequentato casa nostra, mio padre non era più vivo. La cosa che mi incuriosiva è appunto che Umberto di notte spesso stava lì e dipingeva, perché lui dipinge, disegna e dipinge. Senti, quanti tipi di socialismo ci sono oggi? E poi ha senso parlare di contaminazioni fra socialismo e ambientalismo? Dunque, assolutamente sì. Immaginare che una forma moderna di socialismo sia anche quella dell'ecosocialismo, cioè quella della tutela a questo punto della salute, della qualità della vita, di un modello di produzione che non sia invasivo, una delle grandi questioni sollevate peraltro, ne parlavo prima, credo 15-20 anni fa or solo, cioè quella del cambio climatico, l'allarme fu lanciato da Al Gore per parlare di una personalità politica eminente, visto che era vicepresidente degli Stati Uniti, che fece una grande campagna a favore della riduzione dell'emissione di adenite carbonica nell'emisfero. e quindi chiaramente esiste un problema a questo punto di qualità della vita. La qualità della vita era la tutela del lavoratore da un tipo di produzione che lo rendeva povero, dal punto di vista salariale, e lo rendeva anche vero la qualità della produzione che rischiava la cui insalubrità avrebbe inciso sulla sua salute. La riduzione dell'orario di lavoro, la tutela del diritto sindacale, di sciopero e quant'altro. Oggi va esteso questa necessità di tutela, che viene vista un po' come un radicalismo un po' snob, ed è secondo me un grande errore, perché come tu sai bene, visto che vivi a Genova, e avete toccato con mano cosa significa il cambio del clima. Ne sa qualche cosa, ne sapete qualche cosa, l'esondazione del bisagno, le tempeste che spesso tra settembre e ottobre, la caduta del ponte Morandi, vogliamo parlarne? Sì, certo, c'era sicuramente una incuria nella manutenzione del ponte, però è indubbio che quel pomeriggio, quella tempesta, quel temporale, ha contribuito all'allogoramento delle fibre, della costruzione in cemento. E quindi noi siamo di fronte a delle catastrofi che modificano sostanzialmente la vita dell'essere umano. La siccità, la siccità in questo momento invade un pezzo del continente africano, produce le nuove immigrazioni. E quindi stiamo parlando di un fatto che in qualche modo ha a che vedere con il socialismo, posto che il socialismo è una forma di visione appunto della società in cui l'obiettivo principale è il benessere, è il bene comune, e quindi l'ambientalismo ha molto a che fare con il socialismo. Senti, una considerazione. Alcuni dicono che prima tuo padre e poi tu, siete i continuatori del liberal socialismo dei fratelli Rosselli. È vero, non è vero. Lo reputi un complimento, un'offesa? No, no, un complimento sicuro. Un complimento sicuro. Certo, i fratelli Rosselli, come sai, sono stati ammazzati dai sicari di Mussolini, quindi diciamo, non vorrei fare a questo punto la stessa fine, anche se mio padre in fondo ha avuto anche lui i suoi sicari. No, il liberal socialismo, cioè la sintesi socialista liberale, in realtà ci dice una cosa, non la voglio fare troppo complicata. Il socialismo vive solo nella libertà. Diversamente, nelle forme con cui si è strinsecato, e stiamo parlando del socialismo reale, ha prodotto un massimo di deficit democratico e la penuria economica che abbiamo conosciuto, che si sono conosciute nelle società socialiste dell'est. e quindi la forma del socialismo che si adatta di più alla dimensione umana che conosciamo, quella del libero mercato, è quella che mette insieme libertà civili, democratiche, economiche e sensibilità sociale e attenzione, diciamo, per le forme collettive della società. Cioè, noi sebbene vogliamo esaltare l'individuo in quanto tale, proteggerlo, dobbiamo sempre però pensare che l'individuo non vive da solo, non è una monade, vivere una comunità e una comunità che non contempla l'obbligo di ottemperare un rapporto nei confronti del prossimo, è una comunità ingiusta, è una società ingiusta. Altronde, però, questo non è nello Carlo Rosselli, ma è il Vangelo che lo dice, no? Ah, ma il tuo prossimo come te stesso. Senti, ci credeva davvero il tuo padre dopo l'89 alla possibilità di una sinistra italiana riunificata sotto le insegne della socialdemocrazia o era una sua speranza? Sì, era un obiettivo, però che non teneva conto del fatto che non in quei dieci anni e cioè dagli anni 70 fino a metà degli anni 80, ma lungo il corso di tutto lo secolo la sinistra si è divisa ed è stata una divisione ideologica profonda e la cui correzione non poteva essere fatta perché uno dei due veniva sconfitto dalle ragioni della storia, tant'è vero che i comunisti seppero in qualche modo riciclarsi, difendersi anche occultando come hanno fatto in questi 30 anni diciamo al passato, arrivando fino alla comicità involontaria di Beltroni che diceva io non sono mai stato comunista, cioè loro che sono usciti dal comunismo non un minuto prima che il comunismo crollasse, ma un minuto dopo non hanno passato i 30 anni successivi a cercare di di operare una revisione politica culturale, hanno cercato di galleggiare sull'ambiguità, tant'è vero che ancora oggi Berlinguer viene considerato una figura intoccabile, una specie di totem, di santo nel cui non si può parlare male, drammaticamente però non considerando una contraddizione abbastanza vistosa, cioè Enrico Berlinguer non nel 1920 ma nel 1980 rivendicava l'attualità del lenismo e dopo nove anni il lenismo e il comunismo sono finiti crollati in modo diciamo senza appello, la gente scappava, la gente scavalcava al muro per non stare nella società comunista e tutto questo fu occultato anche dal nostro Partito Comunista Italiano, si sono ben guardati diciamo di sorreggere la critica che pure nel mondo comunista era diventata abbastanza evidente e furono i socialisti democratici a cercare di sollevare la contraddizione anche imbarazzante perché arrivo al punto quando crollò il comunismo anche la socialdemocrazia dovete pagare pegno a quel crollo perché il comunismo di fatto era una società un sistema totalitario di sinistra socialista si chiamava socialismo reale quando mio padre andò a Praga all'indomani del crollo del muro di Berlino e della fine anche del regime comunista Praga e su un tazzebao scrisse una frase di solidarietà nei confronti degli insorti ciecoslovacchi e scrisse porto la solidarietà dei socialisti italiani alle spalle si avvicinò un praghese che disse il socialismo scaput cioè come noi non vi vogliamo vedere le comuniste le socialisti cioè noi la sinistra pagò un pegno terribile enorme dal punto di vista ideologico perché anche il socialismo dovette fare i conti con la crisi le contraddizioni e il crollo del comunismo internazionale pur avendolo contrastato e combattuto ma infatti la domanda che ti avrei fatto è come mai il crollo del sistema sovietico ha fatto sì che oltre al comunismo sparisse anche l'idea socialista classica perché la fine del diciamo perché quello era il sistema dei due blocchi la guerra fredda aveva un equilibrio temperato direi quasi diciamo perfetto cioè era un sistema temperato ordinato che generava la capacità di governo della società mondiale pur essendo diciamo pur essendoci uno scontro ideologico eppure tuttavia questo equilibrio garantiva un equilibrio generale quando viene meno il sistema comunista e si apre una prospettiva che gli americani definivano il nuovo ordine mondiale noi abbiamo visto che il nuovo ordine mondiale si è trasformato rapidamente la globalizzazione economica si è trasformata rapidamente in una forma di autoritarismo del capitalismo ora è vero che la globalizzazione ha diciamo arricchito alcuni paesi che erano molto poveri quindi noi dobbiamo salutare come un fatto positivo la globalizzazione la circolazione delle merci la circolazione della tecnologia la circolazione diciamo dei metodi di contrasto per aggredire le malattie più 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 rovinose pensiamo quello che è avvenuto in pandemia la globalizzazione tutto sommato ci ha reso più simili più uguali la pandemia e il virus è una grande forma democratica muoiono i ricchi come muoiono i poveri da un lato dall'altro però ha esaltato la potenza assoluta del capitalismo alcuni dicono che i partiti socialisti europei siano diventati l'ala sinistra del capitalismo internazionale è così vero? no beh mi sembra diciamo una una frase un po' caricaturale cosa vuol dire l'ala sinistra del capitalismo internazionale è vero che la politica non riesce a a introdurre degli elementi di contenimento diciamo del capitalismo liberale liberista insomma Biden con grande contraddizione con grande difficoltà ha cercato di introdurre sistemi di tassazione un riequilibrio diciamo così del rapporto fra 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 strapotere del capitalismo puntivo e tentativo anche di reintrodurre forme di stato sociale è chiaro che la politica ha una sua difficoltà ma ha una sua difficoltà anche perché viene meno il consenso e le forme ormai sviluppate di economia globale non consentono regolamentazioni legislative tali da poter distruggere ridimensionare il potere dell'economia facciamo un esempio pratico per non essere troppo astratti come si fa a porre dei vincoli alla rete per esempio e come si fa generare una tassazione che che renda le grandi major della della comunicazione in influenti o comunque inoffensive è molto complicato ormai siamo entrati in una dimensione per il quale google amazon e altri soggetti sono onestamente irriducibili insomma ad una dimensione meno 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 penetrante nella vita degli uomini poi sostanzialmente perché poi a loro volta google svolge un'attività sociale culturale di servizio quindi è anche complicato cancellarla non è una rete televisiva è qualche cosa di più insomma però tutto questo non lo aveva previsto la dottrina noi ci scontriamo col fatto che non è che noi parliamo di dottrine culturali ideologiche che sono figli del novecento quindi in un mondo totalmente diverso oggi siamo di fronte ad una società profondamente cambiata e quindi o tutti adatti a questa società oppure ne vieni travolta inevitabilmente senti ancora un paio di domande una su una cosa che mi incuriosiva della politica di tuo padre Sigonella Sigonella fu per caso l'inizio della della fine di qualcosa no questo io non lo credo cioè quello fu un episodio certamente che che lo oppose in una fase diciamo all'amministrazione americana ma non incise mai sul rapporto profondo non di né di obbedienza né di sudditanza ma di relazione stretta con 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 l'atlantismo cioè non è mai stato in discussione il posto dove stare nella divisione del mondo dei blocchi cioè è chiaro che mio padre era come i socialisti democratici come i democratici italiani tranne i comunisti stavano dalla parte dell'occidente non dalla parte dell'oriente comunista certo introdusse un elemento di 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 sospetto no un piccolo sospetto il fatto che non ci fosse un'obbedienza e dal tuo punto di vista il sospetto era fondato che essere leali essere di qualche modo da una parte cioè dalla parte del mondo libero non significava che questo giustificasse il fatto che qualsiasi cosa la grande potenza del mondo libero mettesse in campo per 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 default andava in qualche modo a secondato qualsiasi suo volere compreso il fatto che calpestassero le regole del diritto internazionale per fare quello che che volevano fare a casa nostra questo naturalmente non era consentito non era nella sua indole sua come di altri cioè il fatto che comunque gli americani pur avendo contribuito alla nostra liberazione potessero fare a casa nostra e comportarsi a casa nostra come se fossero a casa loro questo no questo non era possibile e questo generò certamente una certa insoddisfazione chiamiamola così no del fatto che fosse sia un alleato ma non era un alleato così obbediente non era un servo diciamo le cose con il suo nome non era un servo certo che non lo era serviva la libertà ma non serviva uno stato non c'era nessuna ragione senti due cose una mi dici i motivi della perché come socialisti non siete rimasti uniti dopo il 1992 beh tanto non sono rimasti uniti gli elettori gli elettori hanno avuto un comportamento molto chiaro cioè hanno votato contro coloro che sostenevano le mani pulite e il colpo di Stato diciamo nel 92 nel 94 quindi la reazione fu tale per cui a prescindere dalla vincola dimensione ideologica l'elettore socialista normale maggioritariamente non assecondò diciamo così chi aveva assecondato l'inchiesta devastante delle mani pulite poi certamente ci fu un contributo notevole da parte nostra nel senso che la nostra proverbiale propensione la divisione mi ragiona anche il fatto che siamo abbiamo una matrice tu essendo genovese dovresti sapere bene beh insomma anche un po' anarcoide libertaria indisciplinata questo è diciamo il socialista italiano è noto diciamo per la sua originalità il suo bello però è anche in una fase così drammatica queste divisioni rappresentarono in fondo un'incapacità poi di poterci di poterci disollevare successivamente noi in questi 20-30 anni abbiamo tentato dovendo sfidare non soltanto questa appunto proverbiale indole individualista dei socialisti ma anche sfidandolo più in repubblica che non ci ha mai riservato la stampa e anche i partiti che non avevano nessun interesse a quel punto che rinascesse un partito socialista perché a sinistra avevano occupato il nostro spazio geometrico e a destra avevano sostanzialmente catturato il nostro elettorato quindi a noi competeva mantenere in vita un principio di sopravvivenza di testimonianza è quello che abbiamo fatto fatto io insieme a Gianni De Micheli Sacrave Martelli poi successivamente con la Costituzione con la Costituente insieme a Enrico Boselli che era rimasto a sinistra noi insomma ce l'abbiamo messa tutta generosamente ma nel frattempo però la società era cambiata e i partiti della prima repubblica sostanzialmente puzzavano un po' di vecchio cioè non si coglieva l'elemento ideologico era una specie di residuo nostalgico spesso veniva definito tale che cercava di sopravvivere alla novità della modernità della società che era cambiata nel frattempo ai partiti che in fondo rappresentavano il nuovo tutto questa costruzione letteraria in realtà si è rivelata falsa perché hanno fatto decine di partiti ogni 3-4 anni cambiavano nome le hanno fatte di tutti colori in questi 30 anni loro partiti personali partiti gasinelli fiori margherite olivi forza di qui forza di là sostanzialmente partiti ideologici partiti che rappresentavano banalmente la divisione fra destra e sinistra come se questa fosse da se sola potesse rappresentare un lemma decisivo per per incoraggiare un elettore a votare e in più i partiti in quanto tali si sono destrutturati cioè nella società i partiti del del novecento avevano la loro organicità cioè erano presenti nella società erano presenti sul territorio svolgevano una funzione sociale determinavano in qualche modo una condizione democratica del paese perché con o senza essere in tasca tu comunque in qualche modo partecipavi alla vita democratica oggi come vedete tutto questo è delegato ad altro mi fa specie che l'antipartito per eccellenza cioè i 5 stelle oggi addirittura hanno votato a favore del finanziamento dei partiti cioè 5 stelle andranno studiati secondo me in un manual di scienza della politica nei prossimi vent'anni perché sono riusciti a passare dall'alfa all'omega nel giro di un paio d'anni hanno governato con tutti cioè con tutti hanno governato tranne che con Fratelli d'Italia hanno governato con tutti i partiti dicendo che in realtà loro i partiti facevano schifo loro sono nati in funzione antipartito e sono diventati la meretrice diciamo del Parlamento italiano e questa è la verità con la tristezza poi di questa parabola tristissima di questo grillo la sua vicenda anche penosa della famiglia insomma una storia triste ecco senti gli faccio proprio l'ultimissima domanda che mi sta a cuore lettere da Barcellona e io mi sono letto a volo a volo d'angelo ed è ed è scritto bene bene ma guarda quello che è un libro che non si non si incontrerà in libreria perché le grandi case editrici certo non pubblicano me e le mie lette della Barcellona quello è un libro testimonianza adesso ho fatto la seconda parte di un fatto che io giusto clamoroso no? della storia dell'Europa moderna cioè il fatto che una regione così importante così conclamata come la Catalonia a un certo punto prende il cappello e vuole separarsi dal Regno di Spagna io incontro questa vicenda in modo abbastanza casuale così racconto anche nel libro che è una raccolta di saggi di articoli perché quattro anni fa ormai mio figlio andò a vivere a Barcellona nel senso che andò per studiare io certo Barcellona la conoscevo era un mezzo tifoso del Barça ma insomma ci sono andati in vacanza ma non avevo nessuna dimestichezza con i problemi politici della città si conoscevo il vecchio sindaco che era Pasquale Maragallo un noto socialista che portò le Olimpiadi a Barcellona e mi trovai improvvisamente immerso in questa dimensione anche storica impressionante cioè non era il secessionismo della padagna cioè la cagata che si è venuta in mente a questo boss e a cui non credeva nessuno e soprattutto a cui non interessava nessuno perché la padagna non esisteva tanto per incominciare e lì invece la Catalogna ha una sua identità precisa una storia altrettanto precisa una lingua e improvvisamente dopo la crisi del 2008 nacque un movimento di dipendentista che crebbe come un fiume un fiume divenne a un certo punto questo movimento di dipendentista sfida la Spagna cioè decide di fare un referendum di autodeterminazione e io me ne accorsi un paio di anni prima un anno e mezzo prima che stava per accadere qualche cosa non che non si sapesse ma qui in Italia non è che si seguissero le vicende della Catalogna e matticinavo il fatto che che la storia non sarebbe andata a finire bene cioè qui se tanto mi da tanto dicevo a me stesso qui finisce o nella guerra civile oppure comunque finisce male infatti per tre anni è finita male è una forma di osterizzazione cioè sembrava l'Als no? la divisione sociale quartieri divisi famiglie spaccate insomma sono stati tre anni abbastanza epici da un certo punto di vista poi adesso piano piano dopo la pandemia le classi dirigenti e anche il fatto che al governo in Spagna ci sono i socialisti c'è un riavvicinamento sempre guardando il sincagnesco ma mi pare che l'indipendenza e la frattura sta andando diciamo sta andando un pochino scevando pensando a Barcellona le fontanelle di Barcellona hanno la croce di San Giorgio San Giordi cioè la croce rossa su Campobianco le fontanelle che ci sono in piazza dei Ferrari sono esattamente uguali a quelle che ci sono a Barcellona e o anche a Milano la cosa bella di San Giordi sai qual è? è che il giorno del patrono di Barcellona allora gli uomini regalano una rosa alle donne e le donne regalano un libro quindi ci sono delle grandi bancarelle di libri e di rose è una bellissima festa quasi pagana San Giorgio il drago San Giorgio credo che sia verso aprile ci sono partecipato diverse volte e poi sai c'è questa proprio questo legame questo mediterraneo così diciamo così così unito così così simile insomma l'angiporto di Barcellona è come l'angiporto di Marsiglia e quello di Genova è meraviglioso diciamo il luogo dove noi viviamo perché è un luogo dove riscopriamo delle radici comune e insomma tutto sommato e anche anche gli elementi linguistici in qualche modo scompaiono perché siamo appunto figli dello stesso dello stesso mare no? questa è la mia curiosità insomma per 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 Baccellona come per Tunisi come per Genova come per Trapani cioè tutti i luoghi dove io tutti i luoghi della mia memoria e del mio cuore sostanzialmente dove ho vissuto e dove e dove mi sento a casa ogni volta che ci vado e ci vengo buonasera buongiorno avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus alla prossima occasione di Amadeus di Amadeus di Amadeus